Sorride. Grazie. 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 Grazie a tutti. E' un po' questo la morire nel rito. Sono spariti. E' ma se ne capite, sono state io. Ti sento, Andrea. Parla con me che non ti sento. Può uscire la musica qua dentro? No. Ti aggiungo da volumai, tu che sei? Eh, a fondo, un'intro. E' la voce che sentite in sottofondo, anche cantare, perché sta cantando in studio, e la voce, possiamo anche dire, dell'amico. Sì, certo, sopra l'amico, 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 l'amico. Perché non è solo, oggi, con noi, siamo onorati di avervi. Abbiamo visto, forse, sono io, per i maldi anni. E' arrivato anche questo momento. Forse è la vita, bisogna di sperare. E abbiamo anche la signora Paola Brattrini. Grazie a tutti, ciao. E sono qui, con noi, in questo momento, in questo momento, per trascorrere un momento culturale. E' un pianto, è un pianto. E' un po' due il programma, sono venuti sulla gala e c'è... E' un momento veramente emozionante, e forse io quasi lo definirei anche in un momento storico, perché è veramente una tappa interessante della vostra associazione. Siamo ragazzi di noi, amiamo il piano, facciamo l'entrata anche nel nostro piccolo, e per questo stiamo veramente onorati, di poter ospitare tra le punte della nostra radio, e due personaggi che hanno fatto e con il nostro... E' un microfono a testa, per Dio. Un microfono quali danno? C'è qualche anno in giro, qualche giorno, un microfono, uno danno una a Bramieri e una a Quattrini. Io li comparano con uno solo. Come diceva Mammela, noi siamo in una situazione a questo punto grande, ma c'è Marcia. No, purtroppo io, questo no, però c'è qui il microfono, quindi in effetti, il mio componente, il mio telefono è un microfono, e il mio telefono è un microfono. come diceva Mammela, c'è un microfono, oppure è lorsso lato? ... ... ... ... Grazie. 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 Scutavo il caffè, mi veniva la bella cosa, quando io sta musica, è bellissima. Queste sono di Betto Pisano. Ci conosce, cos'è la musica? Quindi dal doppi angolo incomincio le sue trasmissioni, ho la cartazzina del caffè e lei chiude con quella musica. Vieni la mano. Ok, grazie. Grazie. Va, che è un mondo. Ciao, come faccio. Ciao, ciao. Beh, ho detto. Grazie. Basta fatta un caso, grazie. Non mi sarei condignata le pese. Ok. Ok. Vabbè, mettiamo in macchina. Grazie. 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 Sì, lasciamo in macchina. Le rose, le rose, le rose. Bene. Un attimo sulla porta. Una macchina nera, dai. Un attimo sulla porta. Le rose, le rose, le rose. Noi sono le rose. E... Grazie. 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 Buongiorno. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ci sono mai andato. Non dovremmo mai fare questa cosa. Sì, il teatro credo che sia molto importante. Non ci sono dei spettacoli che dà un'indicazione precisa. Non ci sono dei spettacoli che dà un'indicazione precisa. Grazie. 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 pettacolo, questi sono avvenuti sempre importanti ed essenziali e mi auguro che da questo rapporto anche Spinsano traiga un minimo di gioia e di giuramento che certamente sia Gino Ramieri che Paolo Catrini hanno saputo regalare. Grazie a voi di Spinsano. Grazie a tutti. Io adesso sono molto emozionata e molto felice di stare qui con voi. Grazie. Abbiamo inserito sulla denovato incitazione, su questa targa, il monumento al quale del nostro paese siamo tutti più attenzionati, il campanile della chiesa matrice di San Nicola. A Gino Ramieri, sto giornalmente. Io sono diventato una zoniera a 36 anni. Sono un dipendente nato. E ripeto, perciò, quello che ha detto Pena Paolo, sono anch'io che stasera è emozionato di essere qui con voi, e soprattutto il mio grazie di lunghe da più profondo e per arrivare a più profondo a me, se ne vuole. Grazie. Grazie a tutti. 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 è Luizio, io, mi chiamo Luizio, mi chiamiamo anche l'automista, Luizio, la giornina, vorrei, vorrei dire che si dice la Camera 54, pranzo questa Camera 54, una Camera bellissima, ma di una bellezza, la Camera è una Camera più bella, che più bella non si può pensare, sono letto, nuova, come Dio l'ha creata, nel suo splendore, nella sua bellezza, anche con la voce nell'alto, Rachel, nella tua vita hai avuto il nome, il dipendente di me? Buongiorno! 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 Grazie a tutti. Buonasera, piacere, piacere, un caffè con le sierie. Allora, un minuto solo, si va bene così, va bene, ok, grazie. Scusa, al ginocchio, apposta. Scusa, la puoi spostare poco poco avanti. No, dai, facciamo così, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Un minuto solo, un minuto, la facciamo un'altra, fermi. Va bene, va bene. Ok, bene. Grazie. 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 Grazie.